Salve a tutti fratelli e sorelle e benvenuti nel nostro nuovo appuntamento di messaggi e profezi di oggi 16 di ottobre 2019 Dio vi benedica, sia lodato nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà, lode e gloria a Cristo nostro Signore e Ave Maria Come avete visto dalla locandina e dalla miniatura ci sono due temi in questo caso La prima è la santa eucaristia che verrà banalizzata, come avete visto anche dal titolo qui sarà banalizzata, appunto è banalizzata la santa eucaristia Cioè si tenderà a banalizzarla e l'altra cosa che la tremerà Sapete che i terremoti ce ne sono tanti fratelli e sorelle, i terremoti veramente ce ne sono tanti I terremoti incredibili si stanno avvenendo in una maniera veramente incredibile Eppure la gente è sorda a questi richiami Però andiamo a leggere i messaggi riferimento di oggi e sono due Il primo riguarda Trevignano Romano, 16 luglio 2019 E dice questo il messaggio Figli miei, pregate per la Santa Chiesa, pregate per i sacerdoti, per i vescovi, per i cardinali Affinché possano aprire i loro cuori alla grazia senza banalizzare i sacramenti, soprattutto alla santa eucaristia Tant'è vero che è proprio questo, che avverrà purtroppo, come dicono le scritture e le profezie Che la santa eucaristia verrà tolta, verrà eliminata, verrà disprezzata, verrà buttata fuori i fratelli e sorelle Quindi ecco perché senza banalizzare i sacramenti, soprattutto alla eucaristia E' proprio questo il punto Si tende proprio a banalizzare la santa eucaristia Che è la fonte di tutta la verità E' la fonte di tutta la via e la verità è la vita Perché lì è Gesù, fratelli e sorelle E non c'è altro che Cristo, fratelli e sorelle Eppure, eppure siamo in queste condizioni Quindi bisogna pregare per la Santa Chiesa Figli, vi prego, prendete le mie mani affinché possa portarvi a mio figlio Gesù Figli amati, vi chiedo di fare cenacoli nelle case Vedete, la Vergine Maria vuole i cenacoli Cioè pregare in casa, pregare insieme, fratelli e sorelle Nelle famiglie soprattutto Vedete, affinché possiate essere più protetti Il Rosario e la preghiera potente contro il male Non dimenticatelo mai Perché il Santo Rosario insieme alla Divina Misericordia Sono preghiere fondamentali, fratelli e sorelle Senza di quelle Non si va da nessuna Marte come base La preghiera è fondamentale Ma quella del cuore E in poche parole La preghiera proprio Forte è questa del Santo Rosario Come sapete bene Nel secondo messaggio Che è quella della Madonna di Avola A Auricchia È del 29 luglio del 2007 E dice questo Cari figli Sono venuto per condurvi Sulla via della luce del mio divin figlio E sono venuto per purificare i vostri cuori Affinché Ognuno dei presenti Possa ricevere la presenza del mio spirito In tutte le parti del mondo Per fecondarvi Con un nuovo fuoco Un fuoco di vita Un fuoco di luce Di amore Il mio cuore piange e soffre Perché dopo venti secoli Solo un piccolo numero È fiducioso a Gesù In verità vi dico Io, Maria Me ne andrò da questa terra Quando sarà compiuto il numero degli eletti Dio vi dona oggi La sua misericordia Mentre io parlo A milioni di anime Di questo mondo Che sta per morire Io me ne andrò Per ordine del Padre De Cieli Ma l'uomo sarà Abbandonato al suo destino Perché la grande misericordia Non è stata ascoltata Figli Siete ciechi e sordi E non vedete attorno a voi Tutto ciò che accade Intorno a voi Tutti i giorni Dice Figli Siete ciechi e sordi Non vedete attorno a voi Ciò che accade tutti i giorni Il cielo scuoterà la terra E gli uomini Cadranno a terra Pregando Adorando Cantando E canteranno la gloria di Dio Pregate Pregate la preghiera del cuore La preghiera che mi dia La forza per trattenere Il braccio di Dio Padre Ecco Quindi Vedete Che le preghiere Miticano Come sapete Determinati Eventi Che Sappiamo Devono avvenire Però Se non si prega Fratelli e sorelle E' ovvio Che gli eventi Arrivino Lo sappiamo bene Che è così A voglia Chi dice I detrattori Che dicono Su tutte le fantasie Su tutte le bugie Possono dire Quello che vogliono Ma avverranno Queste cose Per questo Che bisogna Pregare per costoro E chi è lontano E chi è vicino Tutti quanti Fratelli e sorelle Che il Signore Ci protegga Da questi tempi Veramente Sempre più Pesanti E distruttivi Dio vi benedica Sia lotato Gesù Cristo Sia fatta la sua santa E divina volontà Lode e gloria Dio Padre Onnipotente Si compia la volontà Del nostro Signore Gesù E Ave Maria Se volete Se potete Ovviamente Iscrivetevi al nostro canale Utilizzando la campanella Se volete Se potete Ovviamente Diffondete questi video Perché la Vergine Maria È felice Che vengano Come si dice Fatti girare Questi video Fatti conoscere Ma Ma anche la parola di Dio È l'uno e l'altro Quindi tutte e due Ovviamente Perché l'uno Deve stare insieme all'altro E Che sia lotato Nostro Signore Gesù Cristo Più di questo Vi auguro una santa giornata E Dio vi benedica